intervengo dall'Olimpico questa volta il gol è della AS Roma minuto trentatreesimo la Roma pareggia con Seidu Keita paradossalmente la Roma proprio in dieci sta esprimendo il suo calcio migliore cosa che per settanta minuti non aveva fatto evidentemente ormai senza più nulla da perdere sta gettando il cuore oltre l'ostacolo c'è stato uno slalom, una serpentina di turbe sul lato di destra e proprio all'altezza del lato corto dell'area di rigore, destro sotto tribuna Montemario viene atterrato da un intervento kamikaze di Chiellini da dove scaturisce una punizione che Alessandro Florenzi va a battere il cross al centro, il più lesso di tutti sul secondo palo anticipando anche Lucio Di Buffon e l'intervento di Marchisio è proprio Seidu Keita che schiaccia la palla e porta sull'1-1 la Roma facendo esplodere i 55.000 dell'Olimpico e quindi regalando il pareggio alla sua formazione ora la Roma che attacca con Gervinio 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 se ne va salta un uomo ne salta un altro cerca di guadagnare il fondo guadagna il fondo guadagna il fondo ancora Gervinio uno contro uno con Chiellini indietro per Nengolan da questi appianici Turbe limita l'area i Turbe i Turbe i Turbe il tiro di Turbe dalla muletta sul sinistro sul suo piede sbilenco purtroppo scordinato perché l'intervento di Bonucci non li fa poi trovare la giusta coordinazione Buffone ha infuriato letteralmente con i suoi compagni di reparto e quindi pericolo scampato per la Juventus ma è incredibile come un gol ti possa cambiare le le proprio l'inerzia della partita ti possa rinfrancare ora l'Olimpico una bolgia il grido Roma-Le Roma-Le è una cosa da brividi e la Juventus è in difficoltà la Roma ha dieci minuti dieci minuti ancora per regalare un sogno e regalarsi un sogno a se stessa al campionato e ai suoi tifosi Manolas Pjanic scende Oleba sulla fascia uno contro uno ancora Pjanic se ne va Pjanic converge venticinque metri il cross al centro per Gervinio prende palla Gervinio chiellini su di lui entra in aria lo porta sull'esterno Gervinio se ne va sull'esterno infatti e tocca per i turbi i turbi per Florenzi Florenzi per Naengolan anticipato da Vidal ma è anticipato da quest'ultimo anche da Keita ancora Jan Gambiva da questi Olebas Naengolan tre quarti di campo tocca Keita finiamo questa azione e poi daremo di nuovo la linea allo studio per andare poi in onda nei tre finali Naengolan Gervinio c'è stato anche un rischio di rimanere in dieci per la Juventus perché prima del gol di Keita appunto Vidal ha fatto un intervento sempre sui turbi nello stesso identico modo in cui Torosidis era intervenuto su Pereira lanciata la rete da dove poi è nato il gol di Tevez e purtroppo Orsato non ha usato lo stesso metodo di giudizio e ha graziato il centrocampista cileno quando tutto lo stadio e anche tutta la panchina e Florenzi anche chiedeva giustamente per par condicio di equità di giudizio il giallo anche a Vidal con conseguente espulsione ma Orsato ha detto no decito io Vidal resta in campo minuto trentasettesimo di gioco Roma Roma 1 Roma 1 Juventus 1 a voi la linea per 4-5 minuti di consigli su acquisti la riprenderò poi io al minuto 42 per raccontare le fasi finali di questo avvincente Roma-Juventus che proprio nella parte finale del match si sta accendendo come avremmo sperato fosse già dall'inizio a voi studio